E' l'uomo Fippistrello, è Shadow Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale official channel, sono Maga, lui è Dalm Oggi nuovo Maga consiglia sui fumetti e abbiamo Batman Shadow Cosa succede quando prendiamo un investigatore supereroe come Batman e un altro investigatore non supereroe nato nel 31 e li mettiamo dentro lo stesso fumetto? Beh esce questo fumetto, praticamente hanno fatto una collaborazione la Dynamite e la DC Comics per far uscire questo fumetto, vi anticipo già che lui è un fumetto autoconclusivo però è già in lavorazione Shadow Batman, questo è Batman Shadow quindi è un po' più incentrato sull'uomo pipistrello anche se il protagonista del volume ovviamente sono un po' tutti e due non è che uno copra l'altro e il prossimo invece sarà sul mondo di Shadow perché qua siamo a Gotham eccetera Cosa succede in questo fumetto? Succede che Batman dopo l'omicidio di un abitante di Gotham si mette sulle tracce di un potenziale sospettato e viene a scoprire che però questo sospettato dovrebbe essere morto e questo lo porta a incrociare la sua strada con quella di The Shadow che però cerca di depistare il uomo pipistrello qua il connubio di due protagonisti è molto assodato nel senso che sono tutti e due dei grandissimi detective e trovarli nello stesso fumetto è veramente bello qua Batman fa proprio sfoggio delle sue doti classiche indizi, analizza le prove, guarda la scena del crimine proprio quello che Batman sa fare meglio e scopre appunto questo Shadow che è praticamente anche lui sempre uno che lotta il male però non lo lotta come Batman cioè lui uccide tranquillamente usa la gente è praticamente un po' più cattivo se passatemi il termine come personaggio rispetto al classico Bruce Wayne che conosciamo un paio di nozioni su questo fumetto un paio di nozioni tecniche questa è una raccolta di sei numeri che vanno a comporre questa miniserie raccolta appunto tutto questo tutta la raccolta in questo grosso rapo mi sono incartato e Shadow è un supereroe possiamo chiamarlo così un personaggio dei fumetti che inizialmente era nato come bocce in un programma radiofonico nel 31 poi è diventato talmente popolare che ci hanno fatto è andato ovunque si esatto non è la prima volta che i due personaggi si incontrano e ho trovato una vignetta girando su internet che penso di metterlo adesso però è veramente bello anche a livello grafico sia a livello di storia allora la storia c'è Snyder l'altro è Orlando e il nome del disegnatore mi piace tantissimo ma non riesco a mai pronunciarlo quindi lo farò pronunciare dal Rosmo Rosmo è scritto Rosmo ma sei sicuro che si lega così? si Rosmo 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 e non lo conoscevo però i disegni mi hanno colpito tantissimo è uno stile che mi piace è lo stesso disegnatore di Hellblazer il nostro John Constantine e dentro adesso dai mi ha aperto una pagina a caso ci sono anche le copertine del mitico Team Sale e praticamente le variant che erano uscite in America sono tutte dentro ogni numero praticamente esce la variant è veramente bello ma anche la storia è molto bella è molto intricata e troverà ovviamente il nemico di Shadow e il cervo troverà come sua controparte della DC Joker chiaramente chiaramente se c'è Batman c'è Joker quando ci sono questi mix e ve lo consigliamo è un bel brossurato mi dispiace quasi non sia uscito in cartonato speriamo Lion dai fate anche un bel cartonato magari sai cosa fanno fanno il brossurato anche del secondo e dopo di tutti e due faranno un cartonato speriamo bene speriamo bene che questa collaborazione Dynamite e DC barra Lion possa diciamo aggregarsi bene per un'eventuale raccolta delle due storie un'altra cosa dai disegni si può evincere che il costume di Batman è quello dell'epoca rinascita con questo stemma con il contorno giallo quindi non abbiate paura non occorre aver seguito la continuity del personaggio questa statua tutta la meta dall'altra parte questo fumetto può essere letto benissimo anche da chi di Batman non l'ha mai letto neanche uno spillato quindi quindi prendetelo se potete vi troverete una bella storia classica di Batman proprio vecchio stampo proprio da Detective Comics eccola lì e quindi oh ragazzi vi lasciamo con la frase da scrivere qua sotto i commenti se siete arrivati fino a qua in questo video ci abbiamo pensato un po' e noi ci scusiamo subito con la bellissima Cristina d'Avena però noi la frase dobbiamo dirla Cristina d'Avena e Batman bene commentate se avete visto il video come ha detto Dino fin qua iscrivetevi al mondo virtuale official channel sia su facebook che su youtube qui con una shadownata shadownata potete attivare la nostra campanella non so cosa voglia dire non so andiamo anche noi come tipo petaloso esatto vai accademia della crusca esatto ok attivata la campanella perché così facendo restate aggiornati con una bella notifica sul cellulare ogni volta che esce un nostro video quindi è importantissimo nel nostro canale facciamo unboxing review di stato video di lettore sui strumenti consigliamo film cell tv videogiochi unboxing review di collector tantissimissimissimissimi video quindi seguitici ne facciamo almeno tre a settimana anche di più e basta cosa vuoi dire siamo su facebook scusato appena mangiato siamo su facebook siamo su telegram siamo su instagram dove maga è attivissimo e metto una foto sempre no no ogni giorno sempre e lì è nato il nostro hashtag io sono un virtuale quindi vi diamo ad usare per anche restare un po' tutti voi in contatto sia con noi che con gli altri amici che ci seguono perché è bello vedere la collezione mia ma è bello vedere anche la collezione di Dalma la collezione tua la collezione sua quindi utilizzatelo noi io devo chiedere una cosa questo video esce dopo il bcomics quindi siamo già stati al bcomics siete stati tantissimi e lo spero che sia vero quindi guarda voi è proprio è proiettato nel futuro ciao ragazzi ciao 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 ciao